La lettura del faccia a faccia a Oliverio Lorenzin è piuttosto semplice, le parti si sono lasciate con un nulla di fatto, fumata grigia, con l'impegno però di trasferire l'avvertenza in Consiglio dei Ministri. Il prossimo? Oliverio dice convintamente di sì e sostiene anche che in quella sede si varerà finalmente l'atto interruttivo da lui formalmente richiesto, atto interruttivo e ultimativo, cioè la cacciata del commissario Massimo Scura e la restituzione della delega al governatore. Ma sul punto dal Ministero della Salute non arrivano indicazioni, silenzio e basta, noi non azzardiamo interpretazioni, ci limitiamo a sottolineare che sulla sanità calabrese si sta giocando una interminabile e pesante partita tutta politica e fino ad ora uno dei protagonisti in campo, Oliverio appunto, non è riuscito nonostante sussurri e grida, mediazioni e minacce anche a voce alta ed altissima a mettere la parla in rete, a far gol e a portare a casa il risultato utile. Siamo anche convinti che chi sta nell'altra metà del campo da gioco innalzerà le barricate per difendere la propria porta. Gli interessi in ballo, lo sappiamo, sono enormi, giganteschi e si riflettono inevitabilmente sulle elezioni di primavera. Chi dal fronte di alternativa popolare, solo per semplificare, ma forse qui sta il nocciolo della questione, spinge per l'alleanza nazionale con Renzi e del Partito Democratico e quindi per l'accordo sui seggi, perché di questo si tratta, spera di mettere definitivamente fuori gioco Oliverio e non solo lui, che a sua volta non potrà rimanere a guardare. E dunque lo scenario preelettorale che si profila in Calabria si fa davvero molto, ma molto interessante e tutto giornalisticamente da vivere.